La classifica finale della sezione artigrafica 2020 per la non edizione del premio internazionale 8 milioni è stata composta attraverso una libera votazione effettuata su un sito web più i voti espressi da quattro differenti giurie. Il totale dei voti espressi è stato di 535 e questo è il risultato finale. La classifica finale della sezione artigrafica 2020 della non edizione del premio internazionale 8 milioni 2020 ideato da Bruno Mancini ed organizzato dall'associazione culturale da Ischia L'Arte di Ila con la collaborazione della casa editrice Il Sextante di Maria Pia Ciaghi della testata giornalistica Il Dispari di Gaetano Di Meglio e dell'associazione algerina Ada di Dalina Buschalfa è la seguente. Quinto premio Codice Art 02 Codice Art 60 Valerien Corsi voti 31 Codice Art 51 Soledad Yamas e Gonzales voti 31 Vince il primo premio della sezione artigrafica 2020 della non edizione del premio internazionale 8 milioni con voti 42 e il codice arte 41 Milena Petrarca. Comprimenti alla vincitrice e a tutti i finalisti.